Si chiama Giulia Ciavarella, è una new entry di quest'anno della Dino Woman che davvero sta rispondendo presente sul campo, al di là di quelle che sono le vittorie che sono arrivate chiaramente con belle prestazioni di squadra. Una squadra totalmente nuova, tu arrivi da Bologna, insomma hai calcato qualcosa di importanti. Le prime impressioni di questa città, Sassari, che ti ha ormai adottato, perché non so se hai notato. Allora, premettendo che io non guardo mai prettamente la città in cui sono, ovvero io vengo per giocare, quindi mi adatto a qualsiasi ambiente, ma Sassari è bello, Sassari è bello perché non c'è confusione, arrivi tutto in cinque minuti, quindi è questo l'importante. Poi comunque la gente accogliente, c'è anche l'ultima partita, eravate in tantissimi, 200 bambini, tutto sugli spalti. Poi anche il pubblico mi ha detto che l'anno scorso non erano così tante le persone, quindi questo mi riempie d'orgoglio e sono veramente tanto felice. Una squadra nuova, un coach con le sue idee chiaramente tecnico-tattiche, ma abbiamo visto, insomma, tutte siete disponibili e soprattutto quando venite chiamate in causa rispondete alla grandissima. In più ci mettiamo con la ciliegina sulla torta che è la possibilità di giocare l'Euro Cup, vetrina internazionale, importante. Il nostro punto di forza è proprio quello di voler giocare insieme, ogni allenamento e ogni partita, perché allenandoci di meno con le partite infrasettimanali dobbiamo allenarci in partita. Noi stiamo puntando sul gioco di squadra, quindi comunque forse è una nuova faccia della Dynamo rispetto all'anno scorso e questo ci sta fruttando molto. L'Euro Cup è sempre una grandissima emozione giocare la Coppa Europea e non vogliamo fare altro che passare il turno e quindi mettere uno step in più rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso. Domani Moncalieri per continuare. Moncalieri è una squadra rognosa, corre tanto, è molto fisica e noi non faremo altro che giocare le nostre cose. Ho sempre detto che sono gli altri che devono abituarsi al nostro gioco e quindi noi non stiamo facendo altro che lavorare sulle nostre cose in attacco e in difesa e vediamo di portare a casa questa partita.